quest'oggi 19 marzo ricorre la solennità di san giuseppe sposo della beata vergine maria e patrono della chiesa universale dopo la beata vergine giuseppe è il più grande santo ebbene la figura di questo grande santo pur rimanendo piuttosto nascosta l'evangelio infatti non viene riportata alcuna parola di giuseppe ma solamente le sue azioni dalle quali traspaiono le sue qualità e dunque la figura dicevo di questo grande santo riveste nella storia della salvezza un'importanza fondamentale giuseppe uomo giusto in senso biblico timorato di dio obbediente ai progetti dell'onnipotente e lo sposo di maria e il padre di gesù secondo la legge dandogli il nome funzione tipica del padre ufficiale ed appartenendo egli alla tribù di giuda permette al figlio di dio di legarsi alla dinastia davidica quale figlio di davide figlio di abramo giuseppe è pronto ad obbedire al pari della sposa maria a che cosa alla parola di dio a questa parola che gli è stata rivelata in sogno da un angelo del signore infatti nel vangelo si legge che gli apparve in sogno un angelo del signore gli disse giuseppe figlio di davide non temere di prendere con te maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo spirito santo dunque giuseppe prende maria come sua sposa giuseppe fuggi in egitto con la santa famiglia per sfuggire alla persecuzione di erode giuseppe ritorna come indicato dall'angelo per stabilirsi a nazareth dando così compimento alle profezie contenute nelle scritture la sua grandezza al pari di quella di maria risalta ancor più perché perché la sua missione si è svolta nell'umiltà e nel nascondimento della casa di nazareth del resto dio stesso nella persona del suo figlio incarnato ha scelto questa vita e questo stile ossia l'umiltà e il nascondimento durante la sua esistenza terrena ebbene san giuseppe sposto della beata vergine maria e custode del redentore è stato un servo fedele e saggio san giuseppe ha accolto con obbediente e docilità la volontà del signore il quale gli ha affidato la sua famiglia sulla terra perché la curasse con quotidiana dedizione in questa missione san giuseppe perseverò con fedeltà e amore per questo la chiesa ce lo ha dita come singolare modello di servizio a cristo e al suo misterioso disegno di salvezza e lo invoca come speciale patrono e protettore dell'intera famiglia dei credenti in modo speciale giuseppe ci viene oggi indicato nel giorno della sua festa come il santo sotto il cui efficace patrocinio la divina provvidenza ha voluto porre le persone e il ministero di quanti sono chiamati ad essere all'interno del popolo cristiano padri e custodi nel vangelo di luca si legge che maria dice al suo figlio gesù tuo padre e io angosciati ti cercavamo a questa domanda gesù risponde dicendo io devo occuparmi delle cose del padre mio sono proprio queste parole del figlio ad aiutarci a capire il mistero della paternità di giuseppe ricordando ai genitori il primato di colui che chiama padre mio gesù rivela la verità del ruolo sia di maria che di giuseppe questi dunque è veramente esposto di maria e padre di gesù come lei afferma quando dice tuo padre e io ti cercavamo ma la sua sponsorità e paternità è totalmente relativa a quella di dio ecco in che modo giuseppe di nazareth è chiamato a diventare a sua volta discepolo di gesù dedicando l'esistenza al servizio del figlio unigenito del padre e della vergine madre maria si tratta di una missione che gli prolunga nei confronti della chiesa corpo mistico di cristo alla quale non fa mancare la sua provvida assistenza come ha fatto per l'umile famiglia di nazareth e allora dall'esempio di san giuseppe viene a tutti noi un forte invito a svolgere con fedeltà e semplicità e modestia il compito che la provvidenza ci ha assegnato la fede obbediente a del santo patriarca giuseppe custode del figlio di dio e della sua sposa maria stimolino tutti noi cristiani a dare la nostra disponibilità al progetto di dio e ci aiuti a realizzare con fiducia e con amore la volontà del padre nostro che ne cieli cooperando così al compimento dell'opera della salvezza amen grazie a tutti